Ciao a tutti ragazzi, noi siamo un mercolice e bentornati sul nostro canale Oggi, come avrete letto dal titolo, dobbiamo mangiare rosso per 24 ore Eppure sei vestita di rosso per l'occasione Ovvio che mi sono vestita di rosso, anche io comunque Sono rosso Allora, io ho pensato i pomodori come prima cosa, cioè il pomodoro è rosso Io ho pensato ai lamponi, ho pensato a basta A basta? Basta, cosa c'è di rosso? No, di rosso, ragazzi, c'è veramente poco, onestamente I peperoni, i peperoni Siccome l'hanno scritto nei commenti, noi dobbiamo farlo per forza Già quando avevano scritto il marrone Senti che bordello che fa Nala Nala, i regali non sono per te, non sono neanche per noi No, infatti, noi quest'anno abbiamo fatto regali a tutti, tre neanche a noi due Adesso sono le otto e mezza di mattina, andremo al supermercato e compreremo tanti oggetti per cibarci Oggetti, tanti cibi Dai, voi sei pignolo Ciao ragazzi Eccoci ragazzi Ragazzi, ma non c'è niente di rosso, c'è il sugo, ma non la cosa facciamo Mangiamo il sugo col cucchiaino Esatto, c'è pochissima roba rossa Cioè, la pasta non la puoi fare perché la pasta è gialla Però guardate qua, pomo e pesto agli olive Sì, ma cosa fai col cucchiaino? Nenca puoi metterci la pasta Le bruschette, le bruschette Ma le bruschette non sono rosse Ragazzi, ci penseremo L'ho preso lo stesso comunque questo, perché è rosso Io so ragazzi che esiste una pasta colorata Rossa? Tipo, a casa abbiamo quella pasta che sia verde, che arancione, che rossa Ma non c'è il rosso Possiamo prendere solo quelle rosse di... Ma non c'è il rosso L'ho trovata Incredibile, raga, la pasta al vino Barolo L'ho trovata Ma non ci credo Sono stata io Prendila 2,45 euro di pasta ti fai un mutuo E vabbè, però sembra buona E che fai, non te lo prendi un bello spritz? No, perché è arancione Come è arancione? Ma cosa dici? È arancione lo spritz È arancione Ma io lo vedo rosso, tipo rossiceo Rossaceo Dai, è rosso Sì, ma 6 euro no, prendiamo quello sottomarca 2,15 euro, questo va benissimo 4 euro risparmiati Ma che scherziamo, andiamo, dai Eh, sapevi che esisteva il succo al pomodoro Succo al pomodoro? Tipo succo a mirtillo, succo al pomodoro Io direi proprio di no, eh Anche se è rosso direi proprio di no Che dici? Ragazzi, abbiamo trovato come fare colazione arancia rossa Ma cosa ci inzuppiamo dentro? Quello lo devo ancora scoprire Grande! Stiamo procedendo verso le casse per prendere un carrellino Perché non riusciamo più a tenere le cose in mano Oh raga, io mi chiedo Ma cosa dicono le cassiere ogni volta che veniamo qui E prendiamo cibo di un solo colore L'altra volta col giallo Tutta roba gialla Che fa strano Perché poi anche le confezioni sono rosse Sì, ma eh no Anche i nostri maglioncini Non so se l'avete visto Dicono, ma questi hanno dei problemi C'è pure le maglie rosse Alice, sei nel reparto sbagliato? No, sono nel reparto colazione Dolciumi Certo, colazione Perché tu vuoi colazione Con le caramelle Ma devo andare avanti Ah, ok, no Perché già Poi dice vuole dimagrire, sì Cerchiamo qualcosa di rosso Cerchiamo qualcosa di rosso Ma no, qua è tutto giallo Perché c'è il burro, l'uovo No, no, no Questa, ragazzi, non è per dire Ma penso che sia la challenge più difficile Dei colori che abbiamo mai fatto Perché, vabbè, c'è il peperone, sì Però non possiamo mangiare la peperonata al mattino Cioè, mezzogiorno, topi morti Mezzogiorno, topi morti Che dite, ce l'abbonate? Vabbè, è un po' tipo rossaceo Dai, comunque è una sfumatura del rosso Se ci pensate Ma tu se non bari ad ogni challenge non si... Ma non è... dai, va bene Vabbè, questo penso che sia la cosa più scontata del mondo Quindi i pomodori che tra l'altro a me piacciono da impazzire Non vi dico quanto mi piacciono Peperoni solo rossi Quanti ne prendiamo? Due piccolini, no? Ok, allora Assolutamente i lamponi Questi non si può dire che non siano rossi Allora, per cena invece Abbiamo preso il riso rosso Il riso rosso integrale Questo qua poi diventa così Guardate raga Diventa tutto rosso Rosiccio, esatto E lo faremo con una crema di peperoni Crema di peperoni Basta Perché Beh, quello puoi fare Sì Ma perché non ci ho pensato La shimentel La shimentel ragazzi Questa è rossa anche dentro tra l'altro Questa Quindi mi faccio un'insalata con pomodori e questo Ragazzi siamo tornati a casa Ora vi faccio vedere una carrellata dei prodotti che abbiamo preso Sì, io stavo strutturando il foglio Ho scritto colazione, pranzo o cena Sto cercando un attimo di fare Di fare un mini menu Un mini menu perché sennò mi dimentico Ok, facciamo vedere tutto quello che abbiamo preso Abbiamo arancia rossa Abbiamo una brioche che in realtà non è rossa Quindi questa qua è Violacea dai E barare Ovviamente by Alice Questo è riso rosso Questo è pasta rossa Questo è sugo rosso Questi sono lamponi Lamponi Ovviamente rossi Pomodori Rossi Concentrato di pomodoro rosso Simentel rossa Poi peperoni che sono più arancioni che rossi E poi c'è lo spritz Che è arancio rosso Guarda, è proprio rossa rossa Beh, arancia rossa di certo non può essere blu Oppure arancia meccana Oh, arriva un odore proprio di arancia Questo qua Uno a te E uno a me Questi tutti sono Tutto è meno che rosso Vabbè, dai, si avvicina al rosso E guarda qua che colore rosso C'è il ravanello Raga, partiamo malissimo con questa challenge Ma no, guarda Già la prima è rubata Perché questa è una ladrata Dai, questo non è rosso Dai, lo sai benissimo Ma sì, che rosso To No, dentro è rosso Dentro è rosso È buona, cavolo Mirko È buona Ti piace un sacco Non vorrei dire ma è veramente buona Raga, non avrei mai pensato di dirlo Ma è buonissima Fare colazione così è tutto un altro sapere A pranzo abbiamo lo spritz È amaro comunque questo succo Passaggierà? Eh, guarda Pezzi di arancia Vabbè, ci vediamo a pranzo raga Allora ragazzi Mentre Alice Sta giocando alla fattoria Adesso andrà a lavare Quei pomodori Perché io Il sottoscritto chef Cannava Mirko Preparerà il pranzo In modo esemplare E impeccabile Ragazzi Lava nei tanti Perché sto per fare una cosa Che ti piacerà tanto Dai, su Forse Forse è una cosa che non ti si addice Baby Porca miseria Mi non riesco Mi devi dare una mano Tenendo due di mani Ah ok Allora non sono io il problema Ah ma no Ma dovevi prima svitare il coso C'era tipo una carta Quello che era Eh ma aprendolo Si svita la carta caro No, devo versare io Odore pestilenziale Ragazzi verserò un buon aperitivo Tutti e due Aperitivo Secondo me è un po' arancione È un po' arancione Ragazzi vediamo la porcata Che vuole fare Mirko Allora siccome mi sembra arancione Devo mettere un po' di vino Ragazzi questo è rosso Eh? No non sono stato io No no Non sei stato tu No non so Mi hanno spinto Io ero così Mi hanno spinto Eh certo Allora l'assaggio dello sprizzo Vediamo È rosso Adesso è proprio rosso Sì adesso è vero È rosso tutti gli effetti Vai Ti posso dire una cosa L'ha migliorato Il sapore A me non mi piace lo sprizzo Vai assaggio anch'io vai Vai assaggio È troppo forte Mi È buono No Ormai no Ragazzi Il buttamento della pasta Rossa 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 Ah proprio tutta Eh sono 250 grammi Mi Ragazzi oggi se mani Devo mettere il sale L'hai già messo? Ragazzi non so se si vede Ma l'acqua L'acqua Ecco proprio quello che non volevo che succedesse Ragazzi non so se si vede Ma l'acqua è diventata rosa E si sono schiarite Si è schiarita la pasta proprio Guardate Ragazzi non ho fatto in tempo A riprendere prima Ma tipo due secondi fa Lì ci ha sparato un rutto No 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 Da Sì sì veramente Raga che sta Tremato tutto Allora Il nostro pranzo è servito Questa pasta rossa Con sugo rosso Mangiata da Alice Con questa bellissima Maia rossa Pomodorini rossi Con un po' di olio Mirko abarato Ho messo un po' di pan grattato Ho messo un po' di pan grattato Ma tanto non si vede Perché comunque i pomodorini Sempre rossi rimangono Questa è la mia pasta Questo qui è lo spritz E poi abbiamo del vino Ovviamente sempre da unire lo spritz Esatto non si può bere da sola E poi l'insalata con simental Ah dimenticavo L'insalata con pomodorini rossi E la simental Al peperoncino Al peperoncino Io sto assaggiando È tutto rosso raga Assaggia la pasta Dimmi com'è Non è malvagia Non è malvagia Non è cattiva vero? No Non ti ha fatto del male È una pasta brava Buona Sto preparando i peperoni I pezzettini Così poi per stasera Li facciamo bollire Facciamo una crema di peperoni Con il riso Allora ragazzi Abbiamo fatto Una crema di peperoni Che sembra A dir poco Arancione Quindi metteremo Un paio di gocce Di concentrato di pomodoro Per farla diventare rosso Intanto qui abbiamo preparato Una panella In cui metteremo Del riso rosso Lo faremo vedere In questo momento Una volta che il riso è pronto Aggiungeremo La crema di peperoni Ed ecco a voi Il risultato finale Allora ragazzi Guardate Ecco qua Il riso rosso Cioè adesso Il riso è quasi marrone Ma diventerà rosso Ve lo garantisco Posso dire che sembrano Un po' degli scarafaggini Picco Scarafaggini 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 Il vino rosso Il vino rosso Vai Una volta che sarà Evaporato L'alcol Mettiamo un pochettino Di acqua riscaldata Precedentemente Portata a Bollore Acqua con Con il dado Anche se non è rosso Tanto Si vede E fare così Aggiungere poco D'acqua per volta Finché il riso Non sarà pronto Guardate il rossastro Eh no Deve essere una bomba Allora ragazzuoli Vogliamo fare vedere L'impiattamento Alice Che comunque Aspetta Vorrei far notare Che ha preso La forchetta Ragazzi Ma scusami Anche cucchiaio Vabbè La forchetta Scusa Cosa la usi Perché io Per il riso Uso la forchetta Prima il mio fidanzato Facciamo vedere Che sembra Sembra un po' Marroncino Orribile Marroncino Scusate ragazzi C'è il peperone Con un po' Di concentrato Di pomodoro È venuto così Però in realtà Cioè è rosso Se potete È una tonalità Di rosso Sì è venuto abbastanza bene Dai contanto Tra l'altro ragazzi Questa cosa non la sapete È un'ora Che aspettiamo La cottura del riso Ragazzi un'ora Mai più questo riso Mai più Vediamo un attimo Ragazzi come potete vedere È un po' rosso 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 È vero che è troppo rosso È troppo scuro È un marroncino È diventato Però c'è da dire Che non è vero Che il marrone È una gradazione del rosso Non c'entra niente Perché noi abbiamo fatto Cioè sì In realtà sì Però non c'entra Perché abbiamo fatto il video Solo cose marroni Posso dirti una cosa Non me ne fotte proprio A me non me ne fotte proprio A me non me ne fotte proprio L'assaggio Perché comunque Assaggiare? Sì I peperoni la sera comunque Non ti convince Un po' troppo salato Sì Però non è male La tua faccia dice altro Eh Lo mangerò lo stesso ragazzi Anche se non Ma cosa vuoi? Allora non è troppo Di mio gravidimento A parte che mi sembra di mangiare Dei sassi Perché è veramente durissimo È veramente duro Dopo provalo A parte che se è duro per te Che mangi proprio Io mangio al dente ragazzi Anzi mangio crudo Tu non mangi al dente Mangi crudo Quindi se per te è crudo Se questo per me Questo per me è Pietra Bene Mirko Allora Alfri caro Giriamo Giriamo Comunque non si vede bene Perché non ci sono molte luci Ma guarda che è proprio rosso Dai No vabbè Sì è un siccio In effetti Come sono queste pietre? Io non capisco Come Alice posso dire Che non è buono il gusto È vero È durissimo Ma il gusto è buono Come fai? Ma come fai a dire Che non è buono? E non mi piace Un peperoni Un pizzico di concentrato Di pomodoro Poi c'è La cosa Il dado Il dado Il vino Buonissimo Vabbè se lo dici tu Dai mangio Perché ho fame Due ore che aspetto sto riso È duro Hai sentito che belle Ste pietroline? Ragazzi io non so Sinceramente ad Alice Come possa Non essere piaciuto Questo risotto Perché era buonissimo L'unico problema È che era veramente Tanto duro Infatti questo qua Lo lascio Non riesco a maggiorlo Perché è proprio Immangiabile la consistenza È durissimo Ed è stato un'ora Eh Questa sono rosse Sono buonissime Queste sono rosse È vero La piccola Nala Si vede che è rosso Certo che si vede Sì c'è lo zucchero sopra raga però comunque è rosso Ciao amore Che piccolo Che piccolo Il video di oggi finisce qua Se vi è piaciuto lasciate tantissimi like rossi Iscrivetevi al canale rosso E attivate la campanellina rossa Ricordandovi di lasciare un commento rosso Lasciate tanti cuoricini rossi Chi fa più cuori rossi riceverà da noi Il cuoricino rosso L'ultima caramella questa qua la dedico a voi Ciao ragazzi Lascia un commento La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento e iscriviti al canale